Bella ragazzi sono Master Z e vi è venuto in questo nuovo video in questo primissimo video di questo canale questo primo video ve lo porterà un uomo e un uomo con Nezac quindi mi raccomando lasciate 20 like e iscrivetevi al canale buona visione raga ci vediamo stasera in live bella raga ok eh partiamo subito Nezac papà papà si 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 build fight si abbo è giusto un po' un mitraglietto si si ok ok vai appena voi vai 30 ok bella oddio no va vai vai vedi ho sbagliato un'altra ecco quando mi viene bene non me l'aveva messo il muro non me l'aveva messo se mi fai tirare il cisco ok 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 si parla da solo si si ma d'oro si bene tu ne io non ci ho detto questo detto questi minici chiaccia non lo so cosa comunque non sei caso come però devi imparare anche eh lo so me lo dicono pure i miei amici che c'è build solo 07 no fai 05 che 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 guarda mi spettava vabbè ok va spettiamo 32 vai marco merda fuck F*** 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 Come here Let's go continuing We are Live Live Same Ma cura Vai che vengi chat adoo eh va beh nooo bello inti che delu eh baggeci che c'è la grata che non si rata Adesso sagga, prima hit Segura E' altra Seconda Terza E' un uccisa S'è un barato adesso Vai 5 Vai Mi uscibato il bar Eh vabbè, sta risolando Ah ecco Sì 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 No Vabbè Secondo hit GG Questa è una maravola 100 pieno proprio No, non lo trovo Vabbè 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 47 Quando? 47 A Adesso Vabbè 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 No Non Vabbè 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 No. Vero di aver selezionato le trappole. Ma cosa? Ok, devo andare. Ho capito. Vabbè. Vabbè. Madonna, ma cosa? Vabbè, c'è la nezza. Madonna. Ciao, bro.